C'era una tendenza che si stava affermando assolutamente pericolosa. Io vorrei ricordare che i decreti miniti Orlando intervengono su questo terreno ed estendono ai sindaci la possibilità di emettere provvedimenti di questo tipo in difesa della sicurezza e del decoro urbano, come vengono definiti. In questa settimana abbiamo avuto prova di cosa significa. Ci sono state città in cui i sindaci sono intervenuti allontanando i clochard da sotto i portici semplicemente per garantire la sicurezza dello shopping natalizio. Per cui sono potenzialmente possibili delle distorsioni pericolosissime.